Oggi ci troviamo a San Valentinotorio davanti alla chiesa e questo è il presepe costruito e voluto dalla chiesa e dal sindaco di San Valentinotorio. Come potete notare veramente un bel presepe ho costruito nei miei dettagli una cascata balistica ci sono duri quasi un mese per costruire tutto. Ma forse serve un paolo più 실�bio un aglio di lànante bell solidi in brand essaye effetto di una strada, piccolare e do ogni spazio di Fession laenschia e di Christiane la chiesa e Stelle. Grazie a tutti